Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1 dove in direzione Bologna si segnalano rallentamenti tra Calenzano, Sesto Fiorentino e il Bivio con la variante di Valico-Baccheraia. In direzione Roma rallentamenti per un incidente al chilometro 416 tra Chiusi e Fabro. In A11 rallentamenti in entrambe le direzioni per temporali tra Prato-Ovest e l'allacciamento con raccordo Lucca-Viareggio. Prestare particolare attenzione. In A12 a Pisa Nord è chiuso per lavori l'allacciamento tra la 11 con provenienza Lucca e l'A12. In Fipili in direzione Firenze è entrata della Strasigna chiusa per un veicolo fermo in avaria. In direzione mare rallentamenti per lavori tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest e Ponsacco. Sul raccordo Siena-Firenze rallentamenti per lavori tra San Caciano in Val di Pesa e Firenze in Pruneta e tra Monteriggione e Badesse in entrambe le direzioni. Ed è tutto, buon viaggio! Grazie! Grazie! Grazie!